In mancanza di una specifica tutela costituzionale, bisognerebbe tutelare le generazioni più giovani con la lungimiranza della politica. Il che in Italia è tutto dire, visto che il nostro è uno dei paesi più indebitati al mondo. Che fare dunque per salvaguardare i diritti delle generazioni future oltre a quelli delle generazioni attuali? Per Elsa Fornero, che interviene sul tema in un articolo su Il Foglio, il nodo non è soltanto economico ma riguarda il contratto sociale che lega il paese, e che vincola tacitamente le diverse generazioni in un pato di solidarietà. La Norvegia ad esempio, ha istituito nel 1998 un fondo sovrano, gestito dalla Banca Centrale per garantire al paese un futuro economico, e un welfare sostenibile, e per evitare, che i proventi delle risorse petrolifere siano tutti spesi a favore delle generazioni correnti. Lì, prosegue la professor, il patto intergenerazionale prevede uno scambio equo, attraverso un sistema pensionistico a ripartizione. I contributi versati dai lavoratori vengono immediatamente e totalmente utilizzati per il pagamento delle pensioni attuali. La popolazione cioè attiva garantisce la copertura dei pagamenti pensionistici e l'equilibrio complessivo del sistema. In una società, che invecchia però la platea dei pensionati si allarga mentre i contributi non sempre crescono in parallelo, andando quindi ad allargare il debito pensionistico. È il caso dell'Italia.